Mio padre era un pezzo di pane ed è stato portato all'esasperazione. È iniziato così il racconto di Luca Sfuggiti, 48 anni, che ieri sera intorno alle 20 e 30 ha rinvenuto il corpo senza vita della madre in camera da letto, di fianco al suo, quello del papà, accusato di omicidio. La tragedia si è consumata in una villetta di via Montefeltro al poderino di Fano, dove l'anziana coppia abitava insieme ai due figli. L'allarme è stato lanciato proprio da Luca. Il padre Angelo, 70 anni, ex titolare della storica pizzeria Angelo di Rosciano, avrebbe strangolato la moglie, Rita Talamelli, di 66 anni, per poi cercare di togliersi la vita ingerendo psicofarmaci. Chiamato al 118, il medico ha constatato la morte della donna risalente a qualche ora prima del ritrovamento. Il 70 anni, invece, è stato portato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Croce, dove rimane piantonato. Sul posto, gli agenti del commissariato, diretti da Stefano Seretti, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. La villetta è stata sottoposta a sequestro. Questo non è un femminicidio, ci ha detto Luca, raggiunto telefonicamente. Mia madre aveva gravi problemi psichici e dopo la neurisma cerebrale, che l'aveva colpita, è solo peggiorata. Soprattutto in quest'ultimo anno, chiedeva continuamente denaro a mio padre per comprare dolci, profumi, anche 60 in un mese e creme per il corpo. Stava 8-9 ore rinchiusa in bagno per metterle. Credo abbia speso 7.000 euro in due mesi. Mio padre, ha proseguito il 48enne, aveva paura di non arrivare a fine mese e soprattutto di non riuscire a pagare le bollette. Era caduto in una forte depressione ed era in cura anche lui la scorsa estate. Aveva già tentato il suicidio. Abbiamo chiesto aiuto a tutti, a psicologi, dottori, forze dell'ordine. Mio padre non sapeva più come fare e mamma non si faceva curare. Era diventata violenta, alzava le mani, ci tirava qualsiasi oggetto dai piatti al manico di scopa. Per 15 anni, ha proseguito, ho dormito in camera da letto con la porta chiusa chiave proprio per paura di essere aggredito. Abbiamo fatto anche dei video a testimonianza di ciò che raccontavamo, ma nei documenti lei risultava capace di intendere volere. Addirittura per i picca ha rigato la macchina di mio fratello, ci ha raccontato Luca, che ha aggiunto non voleva più vedere neanche mia zia, ha pure strappato le sue foto. La situazione era drammatica, ma abbiamo fatto di tutto per aiutarli. Purtroppo, evidentemente, mio padre ieri non ce l'ha più fatta.